...dell'obbligo per il Senato, ma sono persone con le elezioni, come addirittura anche quelli che vengono eletti o quelli che sono al Senato... ...troppo in là, invece di soffermarsi su una puntigliosa analisi delle varie materie però, sembra più utile mettere in luce un dato, il nostro regionalismo specia a causa delle... Taricco ancora non riesce a votare, ha votato, è chiusa la votazione. ...la qualità e la possibilità della dinamica a tutti gli animi d'Italia. Grazie. Grazie a tutti. A questa distruzione cerco di attuare all'interno del nostro scuolo, ma soprattutto la centralità della persona, della persona con il centro della scuola. ...viene, pure, scantosi, provi a togliere. Provo, c'è uno, c'è un nome stupendo, che stiamo per i miei piacere. Scusa la votazione. ...la votazione può riparere il contrario, non vorrei volerci dire. ... e si assisterà, sicuramente, a differenza della regione a gioco. Quindi questo è evidentemente semplicemente di buon senso, per dire che la caglia è più un'unità che me lo vuole. Scusa la votazione. ...la cadena presa di 31.25 e usco. ...mi richiede di intervenire. Grazie. Grazie. Grazie.